Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove noi giochiamo a questo gioco chiamato higher or lower quindi ragazzi è un gioco che hanno fatto a tutti i comandati quindi dobbiamo fare anche noi perché noi insomma fanno tutti se no siamo indietro quindi allora ragazzi è un gioco dove noi dobbiamo indovinare quale dei due è più famoso tuttavia questa fama diciamo questa lui si basa principalmente c'è questo gioco si basa sulle ricerche che hanno fatto e c'è scritto sotto mensilmente ah ah cazzo non l'ho mai visto porca troia ok quindi è più fiero MI5 o Sergio Albuero di più o di più ti dico io no questo qui è più famoso sì anche però io non l'ho mai sentito di più o di più più alto che culo ma non abbiamo un punto eh di più no eh sì sì diritti civili ragazzi ma quanti ignoranti siamo tu sei ignorante sento che mi hai detto oh cazzo c'è ma diritti umani guarda il cane che fiero che cade che fa lagare tutto ok quindi meno carto eh no eh sì meno meno eh chi è questo tipo qua io non lo so guardiamo queste immagini dei cartoni abbiamo Giustino in Canneleone questi qua li vedevo a piccoli Flintstone l'orso di Oghi c'è Dead Dead che era ignoranza pura questo qua l'ho già visto a qualche parte eh sì dai c'è ve lo vedete dopo con calma quindi lower assolutamente lower ah eh c'è eh c'è c'è eh eh da chi è che cerca Acne online non lo so di più ah le hai fasi su te no che cazzo più basso dai ma quanto sei stupido ma non ci piano ti ho detto ti ho detto su no dame Zyberg puretto no dai ma il cestino perché quello normale è 3,2 ne abbiamo fatto uno ok meno meno 13 milioni cazzo non so eh 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 max factory lower 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 vai siamo a due Melbourne più alto più alto vai vai e basta però due abbiamo fatto abbiamo fatto meglio dai che si ribalta boretto allora di più di più e vado a cazzo non ho mai sentito 720 700 quindi ragazzi ora ora ragionerà solo mister L bulimia ok quindi bulimia ho fatto la ricerca di scienza umana e io meno non i uomini sono tante meno meno puerto rico ma chi è ma si dalla bulimia più cercata puerto rico e lo mettiamo che succede quando non ascolti me succede che il canale va puttane no no i cani che si lavaltano allora di cristianità postering allora qua sono in dubbio no dai la cristianità dai vediamo va bene si è preso così male con le religiosità acciond'oggi si eretici di merda cosa ho detto cosa ti ho detto io ok quindi si questo questo è ovvio al akhmad guardate qua che fiero ragazzi per i musulmani non possono rappresentare Dio quindi se cercate alla vi darà solo queste cifre dettele qua ma è Dio quindi di più di più cazzo di oh mio dio qua ce l'hanno mandata buona di più di più di più di più cioè cosa c'è di bello non lo so meno 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 ti dico mi dico fidati di me fidati sono un ingegnere siamo a tre siamo a tre di più Qatar cazzo sono tutti ricchi qua ma chi conosce Qatar tutti sono pieni ricchi così meno fidati fidati mi fidati mi fidati bene di più credo sia qualcosa tipo casino ma si dai su 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 che culo ok summer sostizio credo pochi credo meno perché siamo tutti ignoranti si infatti a chi gliene frega le sostizio da tutti a 100 10 persone gli importa le sostizie però stiamo oltre capito abbiamo fatto un punto di 9 no abbiamo fatto 6 se fai un punto di 9 ok guardate che fiero questo tipo qua marzonna fierissimo tux ok quindi attacco di cuore oppure no di più di ora capite perché il mondo va a puttane zero terribile punteggio ok quindi bisogna pensarci sopra i piaggi meno oppure il taoismo meno ok quindi ok io dico facendo un piepe mentale super veloce direi che il taoismo 670 sono tante ok ok quindi ora napal no no nepal non napal che è napal ma è quell'esplosivo lo so lo so ragazzi mister L è tanto stanco sotto qui recuperi con tutto mi ha detto che ha detto le lettere a contare le lettere a contare io ho detto si no prima scrivo le lettere a contare ripetizioni cioè se io dovevo scrivere il microfono è qua perché parli di là perché tanto sono abbastanza vicino se io dovevo scrivere casa scrivevo e non è di stessia sono proprio fencing credo meno dai dai ok ce l'ha data buona ce l'ha data buona pulpy fiction credo di più di più di più di più di più hai visto seul meno si gli ne frega di seul ragazzi ha le scimmie ne frega di seul e le scimmie non usano i computer rinopla cazzo è sto rinopla penso che sia tipo rifarsi non sto capendo niente di più su ragazzi l'ho già visto su un gameplay di pidi pi che abbiamo cominciato a seguire pidi pi non so perché non so beh cercavo Cristo pidi pi mi ha tradito cercavo dark su però eeeh cosmo è pronto fai di nuovo ok ragazzi vogliamo arrivare al 10 trolling di più di più ti è andata buona no ma chi lo sente anche dell'adbible credo sia no niente ok eeeh no allora dipende di più di più c'è la gente aggiunge altre robe è molto già gay credo meno meno sono correllate quindi sono pari eh lo so esatto cazzo ma cosa ho detto io eh ma non c'è cosa pari qua tempo meno meno tutti quanti contano il tempo cosa dici 83 milioni se non c'è la Mr. Lee meno meno beh lei ovvio meno c'è torta di cioccolato di più perché i panzoni in america la cercano in 2x3 cosa ho detto 7 eh no teenage pregnant spetta forse non lo so ho visto questo film l'avevo visto con religione ma non mi ricordo come si chiama mi sa di sì un attimo giuno mi sembra non sono sicuro no di più no di più quindi allora sasso carta forbice ok sasso carta forbice parità 2 forbice sasso carta forbice cazzo mi asco di più di più di più eh vabbè però dovevo vincere però abbiamo fatto sasso carta forbice quindi va bene oh mio dio cia seed quel caso sono i cia seed più basso sì ovvio più basso più basso e va bene allora quindi ragazzi cosa sono quello che fa scimmia fa scimmiotti io dico più basso lui è sì sì più basso quindi disney di più di più guarda disney vediamo un po' qua quindi abbiamo aradino il drago di mi sembrerebbe me crue di zeus di greci peter pan sempre aradino tarzan fierissimo carica 101 ah vero batte non è piacere piacere anche io carica 101 madonna mia la mia fottuta infanzia ragazzi meno meno e porca puno ancora basta con doy assalto dai cosa ok Bruno Mars di più di più di più di più di più un cantante non esiste Bruno Mars tirati uno schiaffo più forte si hai sentito si ok allora guarda il cane il scimmio che butta via il computer io ho Dark Souls vaffanculo quando vedo che gli iscritti calano vaffanculo vabbè l'islam ragazzi meno quando ho visto il milione sai cosa ho detto stavo già per me stimiare Paramount Pictures di più di più ma ma lui tende anche le ricerche correllate no fisiologista fisiologi ah no fisiologia di più di più guarda che feri baffi di stoffi tipo qua allora come si chiama di più di più di più io non so perché la gente cerca la wikipedia dei calciatori ma lasciam perdere di più di più di più delle ricerche di geografia dai in Malesia sono tenuti gli studenti no meno i suremi no meno 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 chi sono stavamo mai visto io esatto appunto ok di più di più di più secondiamo anche il dbweb fa record crisi dei rifugiati non la cerca nessuno ti giuro no no fighati le cerca tutte le rente per cercare non la cerca quindi io dico più alta io e lui più bassa ok sasso carta vinto io più basso io cosa dico più alto sì più alto papà l'ultima ragazzi abbiamo fatto il 5 ikea di più di più china ma c'è una donna china oppure che ne so ikea fa ikea più alto più alto più alto più alto l'ikea visto è tutti i svedesi che la c'è salvare i bambini più basso meno meno hai visto di più di più di più lo ricordo ancora da prima fatti un milione meno no peta dell'anca perduta io credo meno perché è mensilmente quindi meno ma si dai chi cerca più internazion non so mai la ricerca dell'anca perduta della cotta warriors a parte la ricerca di geografia direi che ci sia della gente che la ricerca io credo sì di più di riders of the kate basta l'avendo detto disaster di iceberg credo di più chi c'è che golden gate bridge 301 persone che non hanno 1000 che non ha fà cazzo eh shining io non ho ancora capito guardare lo scopo di shining cosa esprimeva c'era un ti guardi la wiki hai capito tutto di più non ti vede neanche il simbolo perché hanno paura è vero è vero non hanno messo deve essere denunciati forse no ma che no 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 si hai ragione 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 di più di più voglio vedere se dice dio meno più piano fai schifo e tu cosa hai detto anche te meno no 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 ah perché la coda si l'ho vista dai simpson no guardatevi a mettere la coda là via vedrai di nuovo oscar wild di più di più di più è oscar wild ok chi è oscar wild madonna l'ignora per l'italia per questa gente che non sa chi è oscar wild tu lo sai chi è si mi hai guardato sorridendo non penso 12 uomini arrabbiati 9000 anni fa tipo anno zero water aid dai cioè vuoi che ricercano meno eh si eh si quindi ragazzi ho capito le robe se li guardano ho il canone ragazzi ora faccio tutto io va bene dai fai ma che cazzo è che cerca di albero familiare scrive su youtube albero familiare gli orfani ok bravo dai tom fang no 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 è famoso si vede dal si vede dal dall'andatura eeeh che cazzo ok sto nello soprattutto io fammi vedere chi è fans labyrinth oh no meno meno ah fiero l'ho visto ma si era strappo questo io non ti dico niente ha traumatizzato l'infanzia fottuta io non ti dico niente dai chi dice che non è proprio famosissimo come il film dai io non ti dico niente no 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 si ho pensato che ha fatto mani in black eh ne so io non lo riconosco sui occhiali da le ciumi ok nessuno per poco harassment chi è un appunto oh che vuol dire no cosa è un harassment pedofilia non trovarci non lo so eh ragazzi io non ti dico niente dopo vado solo io dopo vado solo io questa qui è stato il signore che mi ha detto la farai giusta mister yoga già c'è la gente che cerca yoga su non ti dico niente io stavolta fai tu ok siamo già sette state sorvegliando uh complottismo fioi dai vuoi che è un rischio ma mi dispiace ora sono te ora sono i criti cosa vi dice Obama oh bene ben fatto butta sul microfono allora Mozart è ovvio che non fa meno perché sono tutti ignoranti vai meno eh cosa ho detto io però non fate tante pensavo meno pulimia meno eh no eh visto tutte noi nella nostra classe no ormai iphone 6s tutti tutti i cochi eh nove milioni che cazzo cile cerca il cile non è che i cileni cercano il cile non è che i cileni cercano il cile spain spain si italia italia spagna credo di più oddia dai ci è mancato poco no interrompiamo qua però quello medio è 3,2 io ho fatto 4 interrompiamo qua si dai ok ragazzi no guardatevi il cane no ok interrompiamo qua il gameplay mister L dovrei editare non è un gameplay vabbè quasi ci vediamo al prossimo premo io almeno via la mano l'ultimo sasso scatta forbici fino a vedere che vince sasso scatta forbici ma mister L wins ci vediamo al prossimo disagio